Ragazzi, sto a Pontesisto con il grande Stefano Natale e basta la voce, lo storico amico anche di Carlo Verdone, in che senso, eccetera, io non lo dico neanche. Ma che c'è davanti? Di dietro? Dietro c'è un palazzo di Trastevere, questa è Piazza Trilussa. Ah sì, e questo è Pontesisto. E questo è Pontesisto, per me è sempre un piacere incontrarti. Io ci ho visto due cerbi, sono due cerbi, non è possibile, l'anno che si chiama Montefumagliore, ma non è possibile. Ma che succede? Ma abbiamo visto solo due cerbi, non ho visto due cerbi. Proprio oggi parlavo, dicevo, chissà se mi chiamo Stefano Natale, quando vengo a spasso con un mio amico Alessandro qua a Trastevere. Ebbè, mi è becchio, ma sono 60 anni che ho fatto questo punto. Ma l'ho incontrato. Sono 60 anni che ho fatto questo punto. E niente, noi ogni tanto ci incrociamo a Trastevere, ma non avevo, volevo fare più che la foto, il video. Il video, certo. E la voce storica. Sì, la voce storica, sì. Sono 40 anni, anzi, ho 41 anni ormai. 40 anni ormai, eh beh, si trova la... 2068, per dieci anni passavo, sono stato zitto nel senso che stavo tranquillo, però passavo per uno che ci provava a far Verdone. Poi dopo sono andato a Costanzo Sciù. Ed è venuto fuori finalmente? No, la prima serata va lì a Castagna e mi ha intervistato. Alberto Castagna? Sì, mi ha intervistato nell'88 e poi dopo si è uscito fuori. È uscito fuori la voce. È uscito fuori la voce, quindi era Verdone che faceva lui. Il personaggio, vabbè, il personaggio. Lo devo ringraziare Carlo perché... Beh, ma penso che anche Carlo debba ringraziare. È abitato da me e io... La storica casa. Sopra i porchi. Beh, ma non è che si è spostato da me, state qua. Sì, sì. Ma si stava... Stava a mezzo tra il padre e... Perché la moglie abita là sempre, più fino a... Comunque, beh, uno che si è a Verdone, dove poteva andare? A Monteverdi. Monteverdi. E poi quello non ne manca a Monteverdi, ma ancora a Tassiega. Però sta a Dubai. Diciamo che è la strada che va a Monteverdi. Un saluto con il grande Stefano Natale. Ciao, tutto a buio, così. Ciao, che riesco. Ti ammettiamo... Ecco qua, così. Eh, vabbè, meglio così. In che senso a tutti quanti? Ciao, ciao. Ciao.